Cos'è il metatarso valgo? I metatarso valgo sono le cinque ossa lunghe situate tra il tarso, le sette ossa che formano la caviglia e collegano la gamba inferiore al piede e le falangi o le dita dei piedi. Il metatarso valgo è una condizione in cui l'intera parte del piede viene spostata o ruotata verso l'esterno dal corpo. Il tallone, tuttavia, indicato anche come il calcaneo, rimane nella sua posizione corretta. Comunemente una deformità congenita che si verifica prima o appena dopo la nascita, il metatarso valgo può influenzare il modo in cui il corpo gestisce il carico e il camminare mentre cambia la struttura del piede e appiattisce l'arco naturale. Quando il peso del corpo si abbassa su un piede posizionato in modo errato, può sbilanciare e causare problemi di dolore che possono irradiarsi attraverso le caviglie, le gambe, i fianchi e persino la schiena. In casi estremi il metatarso valgo può causare una condizione chiamata displasia dell'anca, in cui l'articolazione dell'anca diventa distorta causando problemi per la capacità della gamba di oscillare durante il tentativo di fare un passo. La malformazione delle ossa del piede nota come metatarsus valgo può anche influenzare le dita dei piedi e causare una condizione nota come alluce valgo, in cui la luce si sposta nel secondo dito del piede. Questo può anche alterare la dinamica della normale sequenza dell'andatura del tallone e causare difficoltà nell'equilibrio. Il dolore può irradiarsi dalle dita dei piedi a causa della pressione del dito del primo dito verso il basso sul resto delle dita dei piedi. Il trattamento del metatarso valgo dipende dalla gravità delle ossa del piede spostate. Nei casi lievi, la posizione anormale del piede si sposta facilmente in una posizione più normale attraverso lo stretching passivo, una tecnica in cui non vi è alcuna contrazione attiva dei muscoli attaccati alle ossa. Un ortopedico indossato all'interno delle scarpe può aiutare a correggere la deformità per i pazienti lievemente colpiti. Accoppiato con una normale routine di stretching, questo metodo può riportare le ossa al loro posto e facilitare il movimento, l'equilibrio e il dolore. Nei casi più gravi, specialmente quando le ossa sono fissate rigidamente e non possono essere spostate in una posizione normale, può essere richiesto il lancio per fissare le ossa nel loro luogo naturale. Il piede è allungato di parecchi gradi più vicino al normale e un cast che si estende oltre il ginocchio viene applicato per un massimo di due settimane. Questo processo viene ripetuto più volte fino a quando il piede non riprende la sua forma naturale. Il casting per il metatarso valgo può essere efficace durante i primi anni di vita fino a 4 o 5 anni. Se la fusione è inefficace o la condizione è presente dopo l'età di 5 anni, può essere necessario un intervento chirurgico per correggere la deformità. La chirurgia per il metatarso valgo comporta comunemente un'osteotomia di una o più ossa per riguadagnare il corretto posizionamento. Un'osteotomia è una procedura in cui le ossa vengono tagliate per cambiare il loro allineamento.